Il freddo e le improvvise nevicate hanno fatto chiudere le scuole in alcuni comuni in provincia di Salerno. A Buccino, solo per l'Istituto Superiore a Steas, chiuse invece tutte le scuole di Colliano, Caggiano, Teggiano e Pellezzano. Ma non solo freddo, per il fortissimo vento si sono registrati danni ingenti a Battipaglia e Deboli. Rami ed alberi spezzati dal vento si sono verificati in piazza Mendola in piazza della Repubblica, alle spalle del monumento e caduti. Altri danni nella villa comunale di Taverna delle Rose. Un albero infatti è caduto distruggendo parte della recinzione della villa e danneggiando un forcone in sosta. Disaggi anche in via Spineta e Santa Lucia, dove i rami di alcuni alberi caduti sulla strada hanno provocato il blocco al transito. Disaggi pure nella vicina Eboli. In via Bozzi si è verificato lo scoperchiamento e il conseguente crollo al suolo di una copertura di materiale isolante da un tetto, per fortuna senza danni a cose o persone. In via Vittorio a Veneto invece è caduto un albero senza provocare danni. Super lavoro per le forze dell'ordine, servizi di manutenzione e protezione civile in tutti e due i comuni.